Buongiorno a tutti ragazzi del vostro Pagame, oggi andiamo a parlare in generale su quanto riguarda la partita di Fiorentina Atalanta andiamo a parlare di altre cose ma soprattutto degli allenatori che si tirano in panchina si parla di, come avete visto, Fonseca al Milan, come avete visto anche Antonio Conte presto sarà ufficializzato e arriverà la presentazione ufficiale di Antonio Conte al Napoli e poi Tiago Motta alla Juventus, oltre a questo si parla anche di tanti colpi di mercato si parla anche di Tiago Diallo, di Tiago Santos, scusate, che Fonseca avrà dato tutta la direttiva della società qualche preferenza di giocatore e si parla di Tiago Santos che è un giocatore che lui ha allenato tutta la scuola precedente un Fonseca che deve arrivare all'allenare giusto Milan, un Milan che sicuramente dopo indicazioni sentite da Pulisic che è assolutamente l'obiettivo prossimo di questa stagione, di questa nuova stagione che sta arrivando è lo scudetto i tifosi rossoneri, soprattutto compreso me, sono veramente preoccupati e questa società che ancora continua a pensare a far business e no a regalare soprattutto emozioni e a dare una squadra competitiva non dico di portare a casa dei trofei ma a meno di essere competitivi nelle tre competizioni fino in fondo di provare a meno di aggiornare la squadra e di inforzare soprattutto nelle reparti soprattutto nel reparto offensivo e anche difensivo invece si parla solo di Tiago Di Nandez al Bayern Monaco che ha detto già il sì alla squadra si parla di un Magnanne che Manchester City è su di lui in caso di addio di Ederson un Milan che invece di creare distrugge, non riesco a capire il modo come gestire questa squadra non riesco a capire il modo come prendere Fonseca e avere a disposizione in giro come allenatori De Zerbi, Conte e tanta compagnia bella non voglio discriminare Fonseca, Fonseca è il nuovo allenatore del Milan io spero, al di là del passato che ha avuto Fonseca spero che questo allenatore venga qui a Milano e faccia veramente bene dimostro veramente di che pasta è fatto e con l'umiltà porti avanti questa squadra anche se come allenatori avrei optato su altri allenatori sono contento per Antonio Conte che finalmente arriva in Italia all'allenare una squadra come Napoli che sicuramente è una brutta situazione c'è l'addio di Osimen, di Lorenzo non vuole restare e ha dato le direttive per la sua cessione ma ha un contratto che sicuramente deve rispettare in caso che non rispetti il suo contratto subì soprattutto delle multe sicuramente la società perché la società deve, il giocatore quando firma un contratto deve rispettare tutte le regole che la società ha scritte soprattutto nel contratto, le direttive che ha dato nel contratto quindi Di Lorenzo nonostante tutto deve accettare di giocare per lo stesso gioco con la maniera del Napoli perché la società ha dato le sue direttive e quindi il giocatore sarà incedibile vuole rimanere a squadra per dare un'occasione in più una marcia in più a Antonio Conte si parla solo di Osimen che potrebbe lasciare Napoli ma di Carasceglia a quanto pare il Napoli lo vuole tenere anche se c'è arrivata una grandissima offerta dal Paese St. Germain oltre a questo parliamo anche di questa partita di Atalanta Fiorentina che è l'unica cosa che io vorrei parlare vuole citare tutto l'infortunio di Scalvini io capisco tutto capisco che è una partita che si deve giocare bisogna dare spettacolo eccetera eccetera ma io dico io una cosa caro Gasperini no ma perché metti a disposizione la squadra da titolare che alla fine è una partita che tra virgolette non serve a nulla hai distrutto per carità non è tanta colpa di Gasperini ma anche tutta la sfortuna che ha il giocatore perché alla fine Scalvini va a distruggere una parte dell'Italia perché è un grandissimo giocatore io spero che Federico Gatti lo successisca alla grande spero che questa Italia con tutte queste difficoltà arrivi in fondo e dimostra di che pasta è fatta aspettiamo questa Italia che giocherà sicuramente inizierà l'Europa la prossima settimana la prossima ancora dal 15 in poi seguiremo questo europeo un europeo dove c'è l'Italia che ha grandi giocatori che grandi sorprese che andremo a vedere Spalletti andrà a vedere tutto il gioco e le direttive che darà Spalletti curioso tutto di che Spalletti dirige questa squadra fino alla finale di europei oltre a questo vorrei parlare anche della Special One Mourinho trova squadra a prendere questa squadra il fiume e il contratto con il mio frere Bace uno Special One che finalmente trova un'altra panchina da allenare e che è una nuova avventura perché in Turchia sarà una nuova avventura per Giuseppe Mourinho oltre a Giuseppe Mourinho vediamo tutto analizziamo le altre squadre in Italia le big squadre che ci sono in Italia Juventus, Inter, Milan e ora si è giunta il Napoli il Napoli perché è una squadra che è partita soprattutto da una serie B è partita che era una squadra che molti anni fa non risultava soprattutto nell'ammanacco europeo ma che piano piano si è portata in avanti ad altri livelli parliamo anche dell'Atalanta che ora è una squadra che conta anche in Champions League un Napoli che si rifà sempre io non vorrei parlare di lotta a Scudetto ma questo Napoli con Antonio Conte almeno con Antonio Conte e con le idee di Antonio Conte anche con la squadra che ha a disposizione secondo me può fare tantissimo può fare tantissimo e do un segnare soprattutto anche alle big squadre come Milan, Inter e Juventus che non sarà facile perché prossimo anno avremo Roma avremo Atalanta avremo Napoli e queste tre squadre daranno veramente fila tocci in questo campionato e sono contento perché finalmente andiamo a vedere un campionato competitivo e non andiamo a vedere soprattutto sempre le solite squadre come Juventus, Milan e Inter io sono milanista però a me piace vincere lo Scudetto con un campionato veramente competitivo è quello che si dimostra ogni anno è quello che fino in fondo si deve dimostrare e voglio che il campionato italiano arrivi al livello di una Premier League che si deve giocare la Premier League fino in fondo nell'ultima giornata come avevo visto quest'anno dove ad Arsenal e Manchester City si è giocato fino in fondo la Premier League poi come quanto riguarda il calciomercato noi andremo a vedere su tutto un calciomercato dove ci sono tante notizie che dobbiamo pian piano cercare del reale in queste notizie si parla di tante notizie come Hummels della Borussia Dortmund che il Milan ha fatto tutto un sondaggio su di lui poi Grabe Jesus poi Zilze che a quanto pare il Bayern Moloch se lo vuole tenere quindi non sarà il Milan sicuramente otterrà su altre strade oltre a questa il Milan deve cercare su Fonseca di dare una nuova immagine perché Fonseca usa un modulo dove il Milan deve sicuramente fare cassa e spendere sulla difesa sicuramente io mi aspetto una grossa cessione o tornando insomma a magnano perché con la testa di questa società sicuramente perderemo uno di loro due tra i due io preferisco perdere Teo Hernandez perché magnano importa da tanto e tra i due per sacrificare e per fare un nuovo modello in questa squadra purtroppo ragazzi dovete pensare tutto nella realtà e questa squadra nella realtà sapete la società non spende tanto se spende spende tutto in investimenti per fare biste in futuro e parliamo di una società che non vuole vincere una società che vuole fare solo profitto che vuole mantenere la squadra in Champions League che vuole mantenere la squadra nelle prime posizioni di campionato in pratica è una squadra che vuole fare solo business e non vuole portare trofei a casa quindi dobbiamo metterci l'anima in pace è una squadra che dobbiamo fare la fine in fondo perché noi siamo tifosi rossi che non possiamo abbandonare la squadra ma una cosa possiamo fare è lo sciopero di non andare allo stadio quello lo possiamo fare di seguire la squadra quello lo dobbiamo fare sempre ma di non far incassare soldi alla società lo possiamo fare in qualsiasi modo in qualsiasi modo significa non fare abbonamenti non andare allo stadio e faccio vedere a voi che la società prima o poi cambierà idea prima o poi cambierà idea e sicuramente in questo modo cercheremo anche il modo di far lasciare a queste persone la squadra del Milan e di darla in mani dove c'è gente come ad esempio gli arabi che investono tanto oppure altre persone che investono tanto ma vi ricordo sempre che alcune società americane vengono qua in Italia solo per investire soldi ci vediamo al prossimo video ragazzi abbiamo fatto tutto un 10 minuti di conversazione per quanto riguarda questioni di calcio mercato per quanto riguarda Antonio Conte al Napoli che sicuramente con questa squadra che ha a disposizione levando Simen e prendendo una punta sicuramente con Antonio dovrà spendere tanti soldi con Antonio Conte e De Laurentiis perché deve dare a meno una squadra competitiva per vincere lo scudetto se De Laurentiis ha preso Antonio Conte si vede che vuole lo scudetto il prossimo anno altrimenti è una squadra che è in rottamazione in rivoluzione e che si deve rivoluzionare ma è una squadra che prendendo Antonio Conte De Laurentiis dimostra che tiene veramente tanto la squadra e che vuole ambizioni di vincere e che il prossimo anno da tifoso del calcio mi piace tanto vedere questo Napoli con Antonio Conte alla penna panchina sono contento per i tifosi napoletani ci sono state in passato tante cose brutte tra Antonio Conte e Napoli i tifosi napoletani è giusto che si esaltano io non riesco a capire le altre squadre perché criticano l'emozione che provano tutti i tifosi partenopei ma è giusto festeggiare perché Antonio Conte è un 9 veramente giusto per cui in questo momento per il Napoli perché deve rivoluzionare perché è un Napoli che è arrivato decimo un Napoli che non ha coppe europee un Napoli che ha coppa di scudetto e che può lavorare benissimo a lotta per lo scudetto e quindi secondo me il prossimo anno è veramente dura ma non impossibile per carità potrebbe anche succedere negativo che Antonio Conte non riesce a mettere nella propria squadra la propria immagine ma sarà davvero difficile perché Antonio Conte in tutte le squadre ha dimostrato di inserire nella mente dei giocatori un stile di gioco veramente pazzesco quindi speriamo una cosa che ricordo è che nelle prime league Antonio Conte il primo anno era arrivato il Chelsea era decimo poi è arrivato Antonio Conte e il Chelsea ha vinto la prima league le stesse cose è capito dalla squadra del Napoli io spero che questa cosa potrebbe dare una scorsa in più a questo Napoli ma il prossimo anno sicuramente tutte le squadre saranno competitive e sarà veramente difficile fare una prediction in agosto andremo a fare una prediction in quanto riguarda il campionato di Serie A come avete visto la prediction di quest'anno se andate a vedere non voglio fare un riepilogo perché mi sembra tutta una cosa secondo me inutile da fare un riepilogo ma come avete visto abbiamo sbagliato tante prediction e andremo a provare a indovinare queste prediction e il prossimo anno porteremo sicuramente i pronostici porteremo sicuramente i pronostici e in questa estate porteremo tanti video in questo canale porteremo anche video di videogiochi quindi state ben sintonizzate mettete un like a tutta la campanellina e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi grazie grazie grazie